Grazie di essere qua perché credo che sia un momento importante, un altro piccolo passaggio della nostra storia artistica, non si chiedeva come mai prima della partita e l'ho voluta io questa cosa perché credo che Emanuele sia giusto dargli lo spazio importante per quello che ha fatto per questa società, magari qualcuno troverà le solite frasi di circostanza, non è così perché con Emanuele ci è sempre stato un rapporto personale, credo, straordinario, sia io che Matteo, a lui nei due anni e mezzo, no? Tre e mezzo, ecco, ho perso anche un po', passa così veloce il tempo, in tre anni e mezzo credo che Emanuele ci ha regalato molte gioie e per essere brevi perché dopo credo che il protagonista sia lui, solo per spiegare, io è un po' di mesi che dicevo a Matteo che secondo me la persona giusta per stancare a lui sia Emanuele perché credo che ha l'esperienza, l'intelligenza secondo me perché io parto sempre, voglio a che fare con persone intelligenti e la capacità anche di capire cosa può servire una squadra a livello tecnico, a livello che c'è sopra, lui prese, mi deve facciare un anno, invece ci sono riuscito a convincere, poi naturalmente la decisione è stata sua e della sua famiglia, credo, perché dopo la famiglia è quello che conti sempre nell'equilibrio familiare, di smettere e di passare dalla parte della dirigenza. La figura di Emanuele secondo me è un tocco in più alla nostra crescita, questa che dobbiamo fare nei prossimi anni, non a caso Emanuele farà un contratto di tre anni per farvi capire che c'è grande fiducia nella persona prima e poi nelle qualità che ha lui. Quindi ha deciso di fare questa scelta, di affiancarlo a Matteo, lui sarà, noi diciamo, direttore di campo ma sarà quello che sarà più vicino di tutti alla prima squadra, alla società, lui avrà questo ruolo molto delicato perché poi salendo di categoria ci saranno esigenze superiori, ci saranno delle cose sempre di più da migliorare, noi siccome vogliamo migliorare come società è chiaro che una figura come lui, penso e spero, ci darà quel kit in più per farci fare un salto, sia tecnico che poi anche nella gestione dei giocatori, tutto quello che, perché io dico sempre che quattro occhi vedono più di due e quindi credo che sia per noi un orgoglio, un motivo di essere tutti quanti contenti e orgogliosi che Emanuele abbia accettato la nostra offerta, la nostra idea e spero che nei prossimi anni il suo lavoro venga valorizzato e soprattutto che cominciamo un percorso di crescita in Siena, questo è per quanto riguarda la società, insomma, sicuramente. Beh, naturalmente ringrazio Presidente Pepe per le belle parole ai miei confronti, insomma sinceramente non ho un discorso preparato perché quando uno gioca al calcio nel suo cuore non vorrebbe mai arrivasse, insomma, un momento del genere, una conferenza del genere, però per me si apre, insomma, una nuova scala, ringrazio la società per questa opportunità, la ringrazio soprattutto perché mi ha dato l'opportunità di poter scegliere e in questo mondo qui e soprattutto nella nostra società non è facile avere questa opportunità, io naturalmente insieme alla mia famiglia ho deciso di smettere e iniziare questo nuovo percorso con un grande entusiasmo, un percorso nel quale credo che posso essere utile sia a Matteo ma soprattutto alla squadra e con i compagni con i quali sono stato insieme, insomma, fino a qualche giorno e con i quali sono stato insieme sabato che mi hanno permesso di vincere un campionato e quindi chiude la mia carriera calcistica in bellezza, ecco, sono contento di continuare la mia storia col Bordenone, è un segnale che l'ultima partita della vittoria del campionato e questo mi fa capire perché poi è stato insieme a tutti i nostri spessi, ecco, 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 ecco. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. l'ambiente, conosce tutti i giocatori ed è molto amico dei giocatori, nel senso che ha vissuto lo spogliatore per diversi anni insieme, però la sua figura deve essere diversa, quindi qua anche alla squadra il primo discorso che farò in ritiro sta proprio questo, che Emanuele non è più un giocatore, è un loro amico, Emanuele è un dirigente della società e quindi deve ragionare in maniera diversa, non è facile, vedete che non è facile, perché ho fatto tracciatore e so cosa vuol dire poi dei rapporti umani, però i rapporti umani sono una cosa, poi le scelte societarie, ma perché tu verrai pagato soprattutto per il tuo lavoro, è un altro, quindi con grande rispetto e qui va naturalmente poi, guardo Salva che è un caratteraccio, Salva, scherzo, qui va anche l'intelligenza dei giocatori poi, perché poi c'è, il filo è sottile lì e questa è una cosa che gli ho chiesto, perché lui adesso diventerà non più giocatore, ma deve ragionare il dirigente, non avendolo mai fatto, bene ci vorrà un po' di tempo questa cosa qui, però adesso andrà a fare questo salto prima possibile, vedete che c'è un passaggio delicato questo qua, proprio per i rapporti che ha lui con tutti i suoi compagni, ma i suoi compagni, come vi ho detto in ritiro, il primo discorso che farò sarà proprio questo, perché Emanuele non è più giocatore, non sarà più giocatore, a parte voi che partiamo con il presidente, però ho fatto un posto, e faremo anche una partitella una volta per divertirci, partitella, dieci minuti sia o no, e quindi queste sono le cose importanti secondo me che bisogna subito partire bene su questo aspetto, che si sappia bene i ruoli precisi che uno fa, chi e come, è un po' qua, mi fa piacere che sono andati i ragazzi in mano, quello che sia la dimostrazione di affetto, non sapevo neanche io che erano in questo momento. Grazie, insomma è un gesto che nasce senza parole, ma questo spiega il perché si è arrivato risultato così, è uguale a uomini, è composto insomma il nostro spogliatoio, questa è l'ennesima dimostrazione degli uomini insomma che siamo e niente, grazie. Possiamo raccontare come è il futuro di quest'anno, io non lo sapevo, l'ho saputo adesso per le ultime settimane, mi ricordo quando abbiamo passato la partita con la Triestina in casa, tu di aver parlato allo squadro, l'hai detto no, hai detto... Sì, ma insomma noi, nella nostra tranquillità, che insomma quella che ci ha trasmesso il mister, in tutto l'anno abbiamo analizzato... Non mi ricordo un passaggio, ogni partita, in quella partita... L'abbiamo passato la partita, ma noi siamo stata forte che può arrivare allontare, no? Sì, sì, ma noi siamo sempre stati insomma consapevoli di questa cosa qua, perché eravamo, eravamo, siamo più squadra degli altri, ma abbiamo sempre detto, abbiamo sempre insomma dimostrato... Favi capire l'importanza poi delle persone... che non deve essere solo quando uno vuole, ma deve essere messo nei momenti in cui c'è bisogno, no? che cosa l'importante. Comunque questo è il quadro un po' di quello che noi vogliamo fare, come società, perché vogliamo crescere e quindi benvenga sui ragazzi che sanno di campo, perché io credo che quel tipo di figure come Emanuele debbano continuare a fare questa attività, perché l'esperienza che hai fatto nel mentale del professionismo ha girato molte piazze importanti, hai giocato con giocatori importanti, hai avuto allenatori importanti. quindi il meglio di Emanuele secondo me per capire poi l'equilibrio del produttore non c'è e quindi siccome io credo che il calcio del futuro non sia fatto, come si parlava prima, quando facciamo l'intervista prima, di gente di Natana, più presenza si ha e più si riescono a risolvere i problemi, credo che la sua figura sarà una ruola molto importante all'interno della nostra società. Posso chiedere una cosa? a Emanuele, del giocatore sapevamo benissimo chi era, chi è, talento evidente, che dirigente vuoi essere e perché hai scelto di diventare, cioè quando si arriva a quella scelta lì non gioco più, già è una scelta per un giocatore anche come te pesante, perché dici passo subito al ruolo di dirigente e che dirigente vuoi essere? La scelta per chi gioca da quando aveva 9 anni al calcio è una scelta abbastanza traumatica e ho deciso di fare questo ruolo, come dici tu questa dirigente, perché penso che conosco tantissime dinamiche avendo giocato al calcio per 20 anni, il professionismo, soprattutto dello spoiatoio, soprattutto voglio essere un punto di riferimento per i ragazzi all'interno del giocatore della società, come diceva prima il Presidente, passo dall'altra parte e sicuramente non potremo avere il rapporto che avevamo da amici nello spoiatorio, ma comunque voglio essere un punto di riferimento per i problemi che ci saranno tra la squadra e naturalmente non sarà facile, perché dovrò imparare, è una cosa che non ho mai fatto e quello è lo step più, sarà lo step più difficile, ecco togliermi un po' la maglia che indossavo per mettermi come oggi la paghera cavatta. Porto la mia esperienza, la mia esperienza di campo, la mia esperienza nei rapporti con i giocatori, so quello che passa per la testa di un giocatore questo sicuramente sarà un enorme vantaggio per me e niente, vero male questo pinzetto. Chiedo io ovviamente a te, quando precisamente la scelta è maturata, perché è una scelta del genere, che come sottolinei tu giustamente, traumatica, ha avuto una gestazione lenta oppure è stata una cosa veramente degli ultimi giorni? No, è stata abbastanza veloce, gestazioni lente per come sono fatto io, avrebbero volato un po' troppo ecco. Come dicevo prima, togliersi la maglia dal giocatore quando lo fai a livello professionistico per vent'anni è è traumatico, quindi è stata una scelta cotta e mangiata, si dice a Roma insomma. e come dicevo prima, io abbiamo vinto il campionato lì per lì, ho detto che avrei giocato un altro anno, sinceramente avrei giocato un altro anno perché a livello fisico stavo, è uno strano dirlo dopo l'operazione fatta due anni fa, stavo bene, però aver la fortuna di poter scegliere cosa fare da grandi e aver la fortuna di lasciare dopo aver vinto un campionato in una piazza nella quale sei molto legato, penso che era il momento giusto per farlo. Quando sei arrivato qua nel gennaio del 2016, avevi ancora 35 anni, non neanche ancora a compiere visto che sei nato pochi giorni fa, ti aspettavi veramente di chiudere qua la carriera? Tu sei uno che negli ultimi anni da Bassani poi si è legato le piazze, no? A Bassani si è legato qualche anno, a Verona anche, ma credevi di arrivare a Capolina qui in quel momento? Sì sì, ma io quando faccio una scelta perché credo in quello che mi si dice, mi leggo alle persone, vedo come lo sono fatte e il rapporto tra alti e bassi è sempre stato un ottimo rapporto. Sapevo che era la piazza giusta, la società giusta per fare diversi anni per arrivare a traguardi importanti come è stato e quindi questa qui è solo la conseguenza di quanto siamo andati insieme in questi anni. Matteo, devi trovare un nuovo 10, non è un compito facile. È una cosa più difficile anche perché non è che ce ne sono tanti. Ovviamente per come giocare al mister a Rombo è inevitabile che vanno fatte delle scelte intelligenti da questo punto di vista, però... penso che Manuela a livello di 10 se ne intenda e possa sicuramente darmi una mano in questo. Qualche idea ci hai, immagino? No, ma di mercato... secondo me non è giusto parlare adesso, da lunedì penso che ci sia tutto il tempo. Ma già è una festa di domenica. Per parlare secondo me che conosce 10? Al termine della carriera si fanno dei bilanci ovviamente, no? Un mio collega l'altro giorno parlava con Okaka a proposito di quello che è di Roma, quindi è cresciuto lui nella Roma, nella Lazio, ma comunque... E gli chiedeva sì, e gli chiedeva no, ti ricordi lui era cresciuto con queste grandissime aspettative a 16 anni, sembrava dovesse spaccare il mondo... Per raccontare? No, no, no... E' un po' più giovane... E' un po' più giovane, purtroppo... E' giustamente gli ha detto, ma ti aspettavi di fare qualcosa di più, no? Nella carriera? Guarda, non è che tutti possono fare la carriera che stanno andando, io sono cresciuto con pressioni, non è stato facile... Sono comunque contento. La domanda è, tu eri comunque considerato una grande promessa, hai evitato in Champions League, cioè... Nessuno qui ha avuto una presenza, neanche Cardi un anno fa si scherzava. Alla fine di tutto, che bilancio fai? Potevi fare un po' di più? Sei stato contento così? Hai ottenuto forse anche un po' di più di quello che aspettavi? Te lo chiedo, perché è il momento giusto per chiedertelo. Come era partita sicuramente avrei potuto fare molto di più, però penso che nel nostro calcio, soprattutto nel calcio italiano, non sia facile fare trent'anni di professionismo. E paradossalmente la mia carriera è andata in crescendo dopo i trenta, ho fatto un po' il percorso contrario. Se avessi avuto la testa di quando ho fatto trent'anni a venti sicuramente avrei fatto un'altra carriera, sicuramente avrei fatto un'altra carriera se avessi conosciuto la mia compagna prima. Però il mio bilancio è sicuramente positivo, è un bilancio di un ragazzo, di un bambino che ha calcolato un sogno quando aveva nove anni. Quindi per tutta la vita è riuscito a fare della sua passione di qualche lavoro e alla fine di questo lavoro comunque riesce a rimanere nel mondo che ama, nel mondo del calcio. Perché poi alla fine vengono valutate le persone e questa opportunità che mi dà il Presidente perché il Presidente e i soci ci sono presenti. E' perché credono nella persona, questo per me è il più grande testato di stima evidentemente dal fatto di aver fatto bene la carriera da garciatore che dopo passa e l'uomo di rimasto. Ti chiedo ancora, ne approfitto perché voglio anche mobilitare questo tuo giorno, cosa ti aspetti sabato sarà la tua ultima partita? Qui sei voluto bene, te ne voglio anche io personalmente per il nostro rapporto, abbiamo visto gli ultimi giorni avvio di barzagli, di abate con altri contesti ovviamente, però significativi comunque perché hanno dato qualcosa alle rispettive piazze. Quindi cosa ti aspetti sabato? Che credo che il Minister come un omaggio ovviamente ti farà giocare a lungo visto che... Cosa ti aspetti? Per quanto il pubblico di Ponte non è... E viene in grado di giocare? No, ovviamente anche un omaggio, no? No, ma non c'è Burrai magari, non si chiede. Io, è qualche occasione che siamo qui perché non l'ho fatto prima, devo ringraziare i tifosi per l'omaggio, c'è già stato quando sono uscito nell'ultima partita in casa contro la Gianna del Migno, quindi a me è già bastato questo qui, sicuramente sarà un giorno particolare, adesso non so cosa mi aspetto e spero che questi giorni passino un po' lentamente, sinceramente, non so, sarà tutta una sorpresa. Sicuramente sono contento di fare la mia ultima partita in casa, una partita che può valere ancora un trofeo, e questa per noi è la cosa che speriamo di vincere. No, ma sarebbe... E quindi avere la mia famiglia in tribuna, a me ne basta questo qui, poi dopo quello che succederà sarà tutto un dichiaro. L'ultima cosa, ne approfitto, è quando si è ritirato Marcello, che è tuo amico, e ovviamente Mauro si ricorda bene, perché tra l'altro ha fatto il suo stesso percorso, poi è stata data un'opportunità. Il Pordenone ha giocato la finale della Purskudetto ad Arezzo contro la Lupa Roma, e Matteo si è stato capitano. Non è una domanda che faccio a Mauro, se magari qualcun altro mi può rispondere. È stato capitano perché è stata l'ultima partita, è stato dato l'omaggio. E se ci sarà una... Io non entro in queste situazioni, una cosa che ti chiedo. Io rispondo io direttamente, il capitano è Mirko e sarà naturalmente Mirko, anche sabato. Non ci sarà nessun tipo di problema. Quella volta vi incambi i compagni, il ministero... Eventualmente, non sono quelli che non si darà per decidere Mirko, eventualmente. Io soltanto non entro in queste situazioni. No, 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 no. Dinamiche di scogliattore, no. Non sarà neanche un problema. Ma al massimo non faremo giocare niente così. la nostra società su queste cose qua al momento, perché sono dinamiche di spogliatore, giusto che le gestiscano loro, tanto bere credo, la fascia sarebbe, tanto l'hai fatto qualche volta, quando Mirko era infortunato, se non c'era Michele, adesso non mi ricordo, il capitano, come dice lui, è Mirko, ma se non c'è Mirko lo farà l'ultima, però credo che al di là del capitano sia quello che succederà poi per quello che ha dato, no? La dimostrazione, i miei compagni seduti lì, diciamo, la fascia è un cambiamento, insomma.